Betti si dimette, si avvale dei 20 giorni di ripensamento, inoltre è passata la delibera sul dissesto finanziario del comune di Viareggio. Emergenza in pianti sportivi. A Viareggio, soffocato dai problemi economici, il comune attraverso la Viareggio Patrimonio ha minacciato la chiusura delle strutture, prima fra tutte la piscina. Amministratore pubblico a confronto a Lucca fino a sabato, grazie a Dire e Fare, iniziativa organizzata da Anci e Regione. Domani incontro dedicato al raddoppio della ferrovia Lucca-Firenze. Torna in produzione il vino pascoliano, iniziata la vendemmia a Casa Pascoli nel giorno dell'inaugurazione delle ristrutturate cantine sotto l'abitazione del poeta. Russo vuole una lucchese cattiva, il direttore sportivo Rosso Nero pretende un riscatto della squadra dopo la scialba prova di Ferrara. Pagliuca prepara anche sul piano tattico la difficile gara contro la Carrarese. Opening day alla Parmigiana, il Gesam Lemura debuta in campionato sabato a San Martino di Lupari contro il temibile Parma. Schio e Ragusa, le squadre da battere. A tutti voi la più cordiale buonasera e ben ritrovati dagli studi del TG Noi. Dopo settimane di polemiche e una lunga crisi, oggi è stata davvero una giornata importantissima per l'amministrazione comunale di Viareggio. E allora, come dicevamo in sede di presentazione di apertura, il sindaco di Viareggio, Betti, alla fine si è dimesso e si avvarrà anche dei 20 giorni di ripensamento. Inoltre, nel corso di una seduta che si è protratta per tutto il pomeriggio e si è conclusa prima sera, è passata anche la delibera sul dissesto finanziario del comune di Viareggio. Naturalmente su tutto ciò torneremo nelle prossime edizioni del TG Noi con un ampio e dettagliato servizio. E rimaniamo a Viareggio in questo caso per parlare degli impianti sportivi, impianti sportivi per i quali possiamo dire è davvero emergenza. A Viareggio siamo davvero al paradosso. La società Viareggio Patrimonio, responsabile degli impianti sportivi in città, infatti per mancanza di soldi potrebbe chiudere gli impianti, bloccando l'attività agonistica di migliaia di atleti e creando danni di non poco conta le società che stanno prendendo parte ai vari campionati. Occorre trovare quindi una soluzione urgente al problema nonostante il caos che regni in questa città. La struttura nel Mirino per prima chiudere la piscina comunale. Per il 14 e 16 novembre è già fissato il mitic di nuoto Mussi Lombardi-Femiano, valevole come selezione per i mondiali in Qatar dal 3 al 7 dicembre. Quindi se non si chiarisce subito questa questione si rischia di fare l'ennesima brutta figura anche con la Federazione Italiana nuoto. Tutto questo è semplicemente vergognoso. La voce di questa ipotesi rimbalza tra i corridoi e all'esterno anche del palazzo comunale. Un'ipotesi che circola anche su Facebook, rilanciata dalla portavoce del Movimento 5 Stelle, Max Bertoni. Quindi non sono solo voci campatinare. Grave lutto questa mattina per il presidente della provincia Stefano Baccelli. Colpito dalla morte della madre, la professoressa Piera Angelini Baccelli, la redazione del TG Noi si stringe attorno a Stefano Baccelli e a tutta la sua famiglia. La polizia di Lucca ha attribuito altri due crimini al cittadino marocchino di 21 anni, Issam El Arfawi, che nei giorni scorsi era stato arrestato dopo una rapina compiuta ai danni di una giovane lucchese nel centro storico del capoluogo. Gli investigatori hanno dimostrato che El Arfawi quella notte stessa abbia compiuto un'altra rapina e un furto sempre nel centro storico. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 24 anni di Minucciano, il giovane accusato di aver aggredito gli operatori di un'ambulanza che era stata chiamata dalla madre, preoccupata per il forte stato di agitazione in cui versava il figlio. Le accuse nei suoi confronti sono di violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 63enne di Camaiore, Massimiliano Moriconi, per furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso con quattro sportelli di rami nascosti dentro un borsone che poco prima aveva rubato da contatori dell'acqua e del gas di quattro abitazioni private causando un danno ai rispettivi proprietari quantificabile in diverse migliaia di euro. E ancora la polizia ha sventato il furto in una villetta di Capezzano-Pianore, una frazione del comune di Camaiore. L'arrivo della volante ha messo in fuga i ladri che hanno cercato di dileguarsi nei campi limitrofi, ma sono stati bloccati. Si tratta di un trentenne e di un ventenne, entrambi romeni e residenti in Versilia. Ci spostiamo a Porcari per l'inchiesta pubblica che riguarda il carbonizzatore. Vediamo i dettagli. Il comune di Porcari ha deciso di avviare le procedure per un'inchiesta pubblica presso la provincia in relazione all'ipotesi di realizzazione di un impianto di carbonizzazione rifiuti da parte della società GL in località Salanetti. Siamo stati in disparte fino ad ora, ha affermato in una conferenza stampa il sindaco Alberto Baccini, per rispetto delle istituzioni e per il fatto che comunque l'area individuata non è nel nostro comune. Ma a fronte dell'ipotesi di realizzazione di quello che è, a tutti gli effetti, un inceneritore, sebbene di ultima generazione, ho ritenuto di dover salvaguardare la salute dei miei cittadini, dato che le eventuali emissioni ricadrebbero sul territorio porcarese. Da un punto di vista sostanziale sappiamo bene che gli eventuali effetti collaterali sarebbero concentrati in larga misura su Porcari, che ha nuclei abitativi a poco meno di 100 metri da questa localizzazione. Quindi, siccome si tratta di elemento anche di novità forte, non sperimentata nel passato, e quindi riteniamo che sulla base di questo sia necessaria una procedura di inchiesta pubblica su questo impianto, perché è la procedura sicuramente più democratica e più trasparente per dare una risposta alle giuste preoccupazioni dei cittadini. Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario comunale del PD, affermando il secco di niego alla realizzazione di quello che è, in ogni caso, un piccolo inceneritore. L'Unione Comunale del Partito Democratico ha comunicato che promuoverà incontri pubblici sulle reali caratteristiche dell'impianto. Ed ora ci spostiamo nel capoluogo a Lucca, che per tre giorni sarà la capitale toscana della pubblica amministrazione e dell'innovazione. Vediamo i particolari nel servizio. Lucca, per tre giorni capitale toscana della pubblica amministrazione e dell'innovazione, si è aperta nel capoluogo di refare rassegna promossa da Anci e Regione Toscana in collaborazione con il Comune di Lucca. Occasione di scambio di buone pratiche e esperienze innovative, non solo convegni, seminari e mostre, ma tante iniziative aperte al pubblico con le piazze protagoniste. La prima giornata si è aperta con due importanti momenti di confronto nei locali della Casa del Boia. Il primo dedicato ai nuovi assetti istituzionali per l'innovazione del Paese, con la partecipazione dell'assessore regionale Vittorio Bugli. La Regione ha sempre delegato molto agli enti locali e alle province in modo particolare. Bisogna guardare che cosa di questo è andato e non è andato. Io credo che la cosa importante è dare il più possibile ai comuni e poi valutare invece quelle che sono le materie che è giusto, opportuno, vengano gestite più a livello regionale. Nel pomeriggio spazio a un tema caldissimo come quello della nuova legge di stabilità. Ospite e relatore, il sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pierpaolo Baretta, affiancato da Sara Biagiotti, presidente di Anci Toscana. La scelta di portare un'iniziativa, come dire, fare proprio all'interno di una città e nelle piazze di una città è proprio il segnale della vicinanza. Noi dobbiamo essere vicini e semplificare. Con gli incontri ci saranno in queste tre giornate a Lucca, questo è il nostro obiettivo. Si parte stamani dalle questioni relative alle nuove forme istituzionali, in particolare quelle legate alla città metropolitana, all'Unione dei Comuni e poi si concluderà sabato con questa bella manifestazione legata all'Expo che vede Lucca primeggiare in questo settore. Parliamo di raccolta differenziata in Toscana. I Comuni toscani che hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata sono 46. Il record assoluto spetta a Larciano con il 98,57%. Tra i Comuni più virtuosi però ce ne sono ben 8 della provincia di Lucca. Li vediamo con la tabella Capannori 81,6, Seravezza 75,6, Porcari 72,8, Barga 69,4, Villa Basilica 69,1, Pieve Fosciana sempre a 69,1, Alto Pascio 67,4, Monte Carlo 65,5. Oggi nell'auditorium del polo didattico e formativo di Santa Maria a Colla nel complesso di Maggiano si è svolta l'inaugurazione dell'anno accademico 2014-2015 insieme all'accoglienza degli studenti del primo anno del percorso formativo di laurea di primo livello in infermieristica. Ci spostiamo nella Valle del Serchio dove sono state inaugurate proprio in questi giorni le cantine recuperate a casa Pascoli. Comincia dunque la vendemmia per produrre il vino del Pascoli 2014. Per la prima volta forse dai tempi del Pascoli sicuramente della sorella Mariù nella cantina della sua casa a Castelvecchio si tornerà a produrre il vino pascoliano proprio come quello che lui stesso produceva nelle vigne del suo giardino. L'inaugurazione del restauro dei locali della cantina inserita nel progetto di consolidamento di casa Pascoli e finanziato da Arcus è avvenuta alla presenza del senatore Andrea Marcucci, del sindaco di Barga Marco Bonini e del presidente della fondazione Pascoli Alessandro Adami. Un lavoro necessario anche per dare maggiore stabilità all'intero edificio di casa Pascoli e che ha permesso di recuperare la cantina come era ai tempi del poeta, dove adesso fanno bella mostra anche le attrezzature che allora venivano utilizzate per la produzione del vino. I lavori continuano, anche questi di consolidamento che fanno anche emergere cose molto interessanti, un bel lavoro partito con i fondi che trovammo per il centenario, siamo molto soddisfatti anche del fatto che i tempi di conclusione dei lavori sono quelli previsti e quindi nel primo trimestre dell'anno prossimo. Un altro obiettivo nel grosso progetto di recupero di Caprona come Borgo della Poesia, stamani abbiamo inaugurato i locali della cantina, la cantina del Pascoli, dopo un lavoro di restauro molto delicato che ha ridotto notevolmente il rischio anche sismico della nostra zona e con la vendemmia in corso, proprio ora, la vendemmia 2014, possiamo affermare che il vino, la vendemmia ritorna nella cantina di Casa Pascoli, un grande risultato, per noi un motivo di grande soddisfazione. Grazie a tutti. Sono giunti a Lucca più di 200 avvocati di tutta Europa, chiamati a intervenire all'FBA Intermediate Meeting, il convegno annuale degli avvocati europei, che si tiene nelle sale monumentali di Palazzo Ducale fino a sabato. Lucca è stata scelta come sede ideale per questo importante appuntamento nel mondo dell'avvocatura, dopo che la Federation de Barro d'Europa si è spostata negli anni tra Vienne e Francoforte, passando per Ginevra, Bruxelles e Barcellona. Un riconoscimento prestigioso anche per l'ordine degli avvocati di Lucca, presieduto dall'avvocato Alessandro Garibotti, che da tempo stava spingendo affinché il convegno venisse ospitato nella nostra città. È un evento importante anche solo dal punto di vista turistico, perché vengono personaggi da tutta Europa a conoscere la nostra città, sono entusiasti, torneranno, eccetera. Per il nostro ordine è un vanto, perché una città piccola relativamente alle altre d'Europa che ospitano queste manifestazioni ha avuto l'onore di organizzare questo congresso internazionale. L'FBE è un organismo formato dagli ordini degli avvocati di tutta Europa, che si riuniscono due volte l'anno per confrontare le singole esperienze nazionali e determinare linee comuni per affrontare in modo unitario i problemi della giustizia e dell'organizzazione della professione. Tantissime domande dei telespettatori per il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, nel secondo appuntamento con diretta sindaco. Le richieste dei telespettatori hanno riguardato in particolare interventi di miglioramento della viabilità, quella delle frazioni minori e la cura e la manutenzione del territorio contro il dissesto idrogeologico. Andreuccetti, che ricordiamo è il più giovane sindaco della provincia di Lucca, ha garantito interventi su tutte le emergenze, grazie ad una nuova organizzazione del lavoro. E a proposito di trasmissione in diretta, ricordiamo l'appuntamento di venerdì sera alle 21 con speciale TG Noi Dido. Si parlerà di matrimoni e adozioni gay, un argomento sempre di strettissima attualità. E con questo si chiude anche la prima parte del TG Noi. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Subito dopo, le notizie sportive.